Musica Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale, apriamo con la cronaca. All'indomani dal rogo che ha distrutto la sua auto, l'avvocato Francesco Castellana prova a fare un primo bilancio di quanto accaduto. Escludo categoricamente la matrice politica, dice, ma di sicuro è un fatto inquietante per me, per la mia famiglia e anche per tutti coloro che giornalmente lavorano per il bene comune. Sentiamo. Prima le fiamme, poi il boato che nel cuore della notte ha buttato giù dal letto l'avvocato Francesco Castellana e la sua famiglia. Della scorsa notte restano solo i pochi resti bruciati dell'auto e l'inquietudine che l'ennesimo atto incendiario lascia a chi lo subisce e alla città. Il rogo è divampato poco dopo le tre in via Recanati dove il SUV di Castellana era parcheggiato. Le fiamme hanno divorato l'auto in pochissimi minuti. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini e i vigili al fuoco. Sembra che non ci siano troppi dubbi sull'azione dolosa. I militari dell'arma hanno avviato le indagini acquisendo anche le immagini della videosorveglianza attiva nella zona. L'avvocato Castellana intanto ha depositato una denuncia. Un fatto inquietante e perturbante che scuote la vita privata, la vita professionale e la vita pubblica di un cittadino che pensa e agisce sempre per il bene comune della città. È secondo un'etica comportamentale che mette in prima linea i valori fondamentali dell'esistenza umana. Quindi sicuramente è un fatto grave che desta molta preoccupazione sia per quanto riguarda l'aspetto privato della nostra famiglia ma che riguarda anche l'aspetto pubblico della nostra città. Laddove si pensa che al semplice linguaggio della legalità, della giustizia o delle normali regole comportamentali c'è una parte della città che risponde con il linguaggio della violenza. Castellana è attivamente impegnato anche in politica nel gruppo locale del Movimento 5 Stelle. Da poco ha ufficializzato la candidatura al Consiglio Comunale in vista delle prossime amministrative di giugno, anche se si sente di escludere che quanto accaduto sia legato in qualche modo alle vicende politiche. Escludo assolutamente che questo atto possa avere una matrice politica perché intanto sono un semplice attivista, non rivesto ruoli istituzionali. Ho già annunciato la mia candidatura ma non credo che questa mia proposta di candidatura possa inquinare l'azione di qualche personaggio politico. Castellana individua la pista legata alla sua attività professionale. Nel frattempo all'indomani del rogo sono piovute decine di attestati di stima e di solidarietà bipartisan. Nelle ultime 24 ore dopo l'accaduto ho ricevuto grandi attestati di stima da parte di tutte le forze politiche, a partire dalle forze di destra, di centro, di sinistra e anche ovviamente della mia componente politica del Movimento 5 Stelle. Quindi escludo assolutamente la matrice politica. Per il resto potrebbe essere un fatto legato all'attività professionale. Laddove io, essendo un avvocato civilista, ciò che intento risolvere con la regola, con la legge, con una dialettica professionale serena e tranquilla, qualcuno possibilmente ha pensato di rispondere con questo atto violento. Però per il resto ovviamente mi affiderò e mi sono affidato agli inquirenti e alla magistratura e che facciano il loro lavoro sperando di poter arrivare ad una soluzione o comunque ad una individuazione degli autori. La cronaca giudiziaria sono due le condanne decise al termine del giudizio, abbreviato per la rapina subita lo scorso anno dall'esercente Nunzio Di Pietro, venne aggredito a Macchitella per portargli via gli incassi dei supermercati. Due condanne per la rapina e l'afferimento dell'esercente Nunzio Di Pietro. Il titolare di alcuni supermercati gestiti insieme ai familiari fu affrontato lo scorso anno dai rapinatori che gli portarono via le somme degli incassi delle attività oltre a quello che aveva con sé. Venne aggredito alla chiusura serale del punto vendita di Macchitella. Sei anni e otto mesi di reclusione sono stati imposti a Diego Orrinella, sei anni e quattro mesi invece per Carmelo Ascia. I poliziotti arrivarono a loro a seguito di un'indagine che prese la via proprio partendo da quanto verificatosi a Macchitella. Di Pietro, secondo l'accusa, venne colpito più volte dai rapinatori. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza ripresero la dinamica dei fatti. L'esercente nel giudizio abbreviato scelto dalle difese è stato sentito come testimone assistito dall'avvocato Enrico Agliotta. Per i legali degli imputati, gli avvocati Cristina Alfieri e Marco Granvillano, i fatti andavano valutati su una base diversa da quella proposta dalla procura e escludono che ci sia stata una violenta aggressione. Per questa ragione hanno sollevato dubbi sulla contestazione di lesioni e sui presupposti della rapina. Il procuratore capo, Lucia Musti, nelle sue conclusioni aveva già insistito sulla violenza esercitata dagli imputati negando la concessione delle attenuanti generiche. Aveva indicato la condanna per entrambi. Per gli inquirenti, gli imputati si sarebbero mossi secondo un piano prestablito senza curarsi dell'incolumità di Di Pietro che fu costretto alle cure dei sanitari dell'ospedale Vittorio Emanuele. Le difese attenderanno le motivazioni per poi proporre appello. Si è presentato all'ingresso del Tribunale per accedere ad uno degli uffici interni. Un giovane però è stato fermato alle guardie giurate in servizio. Gli operatori dell'Europolis infatti, durante i controlli preliminari che fanno da filtro, hanno individuato un coltello. Il giovane nero è in possesso. La lama è stata sequestrata, affidata alla polizia giudiziaria. Il ragazzo pare si sia giustificato facendo riferimento ad una dimenticanza. Non avrebbe ricordato di avere il coltello in genere vietato con sé. Si ritengono danneggiati per aver perso terreno fabbricato in contrada a Bruca, dove era previsto il maxipolo agrofotovoltaico ciliegino. I lavori non furono mai conclusi. I proprietari di una delle aree chiedono oltre un milione di euro di risarcimento. Gli strascichi di quello che non fu mai il maxipolo agrofotovoltaico ciliegino, progetto finito nel nulla già dopo l'avvio dei primi cantieri, potrebbero incidere ancora sugli assetti finanziari del municipio. Sono gli espropri di allora al vaglio dei giudici proprietari di un'area e di un fabbricato nella zona di contrada a Bruca. Una di quelle che avrebbero dovuto fare da scenario al progetto si sono rivolti al Tar Palermo. Non solo chiedono la restituzione del terreno e dell'immobile con il pieno ripristino, ma attraverso il loro legale indicano un danno patito per aver perso i beni. L'entità del risarcimento, che ritengono congrue di oltre 3 milioni di euro, sono tutte indicazioni contenute nel ricorso amministrativo notificato a Palazzo di Città. L'azione è stata avviata non solo nei confronti dell'ente comunale, ma anche della cooperativa Agroverde che propose per oro l'investimento. Secondo il legale, che ha avanzato il ricorso, sono ancora i suoi assistiti legittimi proprietari di quell'area. È evidente che si mette in discussione pure l'iter di esproprio. La Giunta ha dato il via libera alla Costituzione in giudizio. Il Comune sarà nel procedimento, nel tentativo di evitare la soccombenza, che significherebbe una notevole esposizione finanziaria per l'ente, ora in dissesto. Dalle 6 di stamattina la Chiesa del Rosario accoglie i fedeli in processione, che ancora una volta porgono il bacio alle figi del Cristo caricato dalla croce e dalla Madonna addolorata, una tradizione fortemente sentita dai cittadini gelesi, che tramandano questa antica tradizione anche a figli e nipoti. Con il tradizionale bacio dei piedi del Cristo e della addolorata, entrano nel vivo le celebrazioni della Settimana Santa. È molto sentita, specialmente qua a Gera, penso anche in Sicilia. È molto sentita la settimana di Pasqua. Anche lei è venuta a baciare i piedi al Signore? Certo, è un dovere che una devi fare. Perché? Perché una se la sente nel cuore, perché Gesù è dentro il nostro cuore. Cosa si aspetta da questa Pasqua? Cosa mi aspetto? La salute, i miei figli e a noi marito e moglie, a tutti, amici e nemici. È una vita che noi frequentiamo in questa situazione, in questa processione, quindi è bello, diciamo, la seguiamo sempre. Lei è venuta, anche lei è venuta per baciare i piedi al Signore? Assolutamente sì, come tutti gli anni. Perché ci tiene così tanto? È perché noi siamo nati con questa religione, quindi è giusto che la seguiamo per sempre. E la trascimettiamo anche ai nostri figli, la tramandiamo. Si rinnovano le tradizioni gelesi per la fonte Pasqua? Certo, andiamo in chiesa, andiamo a fare l'onoranza a Dio, Gesù Cristo. Sono momenti fortemente sentiti da tutta la città? Certo, certo, questa è una tradizione che non si dovrebbe levare mai. Una tradizione quindi che si tramanda? Che si tramanda e che non si deve levare. Oggi si rinnova una tradizione molto importante. Certo, bacia di piedi a Gesù, perché noi crediamo nella risurrezione di Cristo e anche in Gesù. Perché è venuto qua oggi? Vengo qua a vedere, siccome è tanto tempo che è chiusa, voglio vedere come è combinata all'interno della parrocchia. Oggi è una giornata particolare perché si baciano... Sì, si baciano per tutti i gelesi e vengono tutti a vederne la Madonna e anche i prete, tutte le omalie che fanno i prete. Le celebrazioni pasquali sono sempre molto sentite? Sì, tutti, su tutti i paesi. Il giovedì santo pone fine alla quaresima, iniziata con il mercoledì delle ceneri e con essa finisce anche il digiuno penitenziale. Con la messa vespertina in cena domini inizia il trido pasquale, ossia tre giorni nei quali si commemorano la passione, morte e resurrezione di Gesù, che è il suo fulcro nella solenne veglia pasquale e si conclude con i secondi vespri della domenica di Pasqua. Andiamo a vasare i perosignore, si diceva a Gelisa. E neanche un ripetemmo a Gelisa, andiamo a vasare i perosignore per poter recuperare quello che abbiamo ricevuto, le nostre tradizioni. E dare esempio anche ai più giovani, anche ai ragazzi, di questa nostra appartenenza alla Chiesa e appartenenza anche a Cristo. Il giovedì poi è giornata che ci ricorda l'istituzione dell'Eucaristia, l'istituzione del sacerdozio ordinato, ci permette di poter adorare la presenza viva e reale di Gesù negli altari della riposizione addobbati proprio ad hoc, per poter mettere in evidenza la particolarità del giovedì santo. E poi alle 21 circa le sacre immagini del Cristo dell'Addoverata ritorneranno in Chiesa Madre attraverso una processione penitenziale che si svolgerà nel centro fedoriciano. Per noi cattolici, per il popolo igialese è molto importante, perché proprio inizia la passione di Gesù. Lui per il nostro grande amore, per il mondo intero, ha dato la sua vita. Il bacio ai piedi, Gesù ci ha dato questo grande segno di amore per donarci l'uno con l'altro. La politica, la dirigenza democratica deve accelerare per individuare la collocazione in vista delle amministrative. Ad oggi non c'è stata una scelta. Il commissario Arancio incontrerà gli esponenti locali del partito. Potrebbero essere le battute finali per il Partito Democratico rispetto alla decisione sulla collocazione per le amministrative. D'inizio giugno, il commissario del partito, Giuseppe Arancio, sembra intenzionato a chiudere la lunga e travagliata fase della scelta che i Dem dovranno formalizzare nella corsa alle amministrative di giugno. Una riunione di partito potrebbe tenersi oggi oppure al massimo martedì della prossima settimana, così precisa l'ex parlamentare Ars Arancio. Il PD deve trovare una collocazione. Il progetto Gela lo aveva lanciato in seno alla guerra politica, rafforzando i legami con i grillini del Movimento 5 Stelle e con il gruppo civico, entrambi adesso a sostegno della candidatura di Terenziano Di Stefano. I democratici invece si sono fermati un giro nel tentativo di fare il punto. Dovranno valutare più soluzioni, da quella naturale dell'appoggio a Di Stefano insieme ai grillini e agli altri pezzi della coalizione, fino al sostegno a Miguel Donegani, ex deputato regionale e storico dirigente democratico. In mezzo potrebbe esserci una terza via, per ora solo teorizzata ma poco concretizzata. I dirigenti del partito sono stati chiari, la scelta finale la farà il commissario Arancio, che probabilmente anche per questo motivo ha voluto valutare con attenzione. I contatti sono stati molteplici. Di Stefano e il garante della Gorai, la vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, mantengono costanti interlocuzioni con i vertici del PD nel tentativo di strappare un sì. Allo stesso tempo, varie anime del gruppo cittadino democratico hanno intrattenuto riflessioni sul da farsi, pure con i non allineati. Gruppi e liste per ora non collocate in nessun blocco. I DEM sono chiamati a finalizzare una soluzione in tempi brevi. Bisognerà poi strutturare la lista e dare concretezza ad un programma alternativo al centro-destra e all'amministrazione greco. Quale sarà il perimetro di questo percorso? Non è facile capirlo, almeno per ora. L'inedito è intitolato Il mio diamante del cantante neomelodico gelese Rosario Caci, di soli dieci anni, da oggi entra nella classifica nazionale italiana. Per i prossimi 30 giorni il brano sarà infatti presentato nelle radio in promozione nazionale. Rosario si è giudicato il quarto posto nella competizione per giovani cantanti Sanremo Junior 2024, il concorso internazionale per cantanti solisti dai 6-15 anni. Con il suo nuovo brano inedito si è giudicato anche il premio menzione speciale da parte del direttore di giuria Franco Fasano. E vittoria del titolo mondiale ai campionati di Malta di Karate per il giovanissimo Giovanni Comes, atleta gelese della Power Gym di Arcangelo Romano, per lui anche una coppa di merito da parte dell'organizzazione per essersi distinto tra tutti gli atleti. Un titolo mondiale, una coppa speciale e due podi. Questo è il bottino con cui torna dai campionati di Karate di Malta Giovanni Comes, talento gelese dell'SD Power Gym di Arcangelo Romano. Quanto è bello aver vinto questi premi? È bellissimo perché è stata una bellissima esperienza. Un titolo mondiale, due podi, un bel bottino quello portato da Giovanni a casa. Sì, sicuramente per la sua prima esperienza, non proprio la prima, perché già Giovanni è campione italiano della categoria cinture bianche. Anche se ora ai campionati del mondo di Malta VKA ha vinto il titolo mondiale nella categoria bianche-blu-marroni. Quindi una categoria che comprendeva quasi, quasi, no quasi, per certo 43-44 atleti di tutto il mondo dove lui ha primeggiato e non ha avuto rivali. Addirittura è stato, ha preso un'altra coppa per come si è distinto e per come si è comportato durante le competizioni. Qual è la qualità che secondo te Giovanni ha e gli altri no e che soprattutto l'ha portato a vincere? Allora, Giovanni la qualità che ha è che è un ragazzo abbastanza calmo, non si fa apprendere dall'emozione, quindi è un ragazzo freddo per quanto riguarda la competizione. E poi ha una capacità d'apprendimento di pochi ragazzi. La qualità che hanno i campioni, che tutto ciò che il maestro riesce a trasmettere i ragazzi lo trasformano. All'evento hanno partecipato 42 atleti provenienti da ogni parte del mondo fino ad arrivare alla fase finale in sei, in base ai risultati delle sfide precedenti. In finale Comes ha poi affrontato e battuto un atleta brasiliano. Una grandissima soddisfazione questa per il maestro Arcangelo Romano, come affermato da lui stesso, e per la città intera, con l'auspicio che il campioncino possa portare altre volte in alto in nome della nostra città. Per me il risultato che un maestro può avere, il risultato più grande, è quando vedi i propri frutti, il proprio lavoro, trasformarsi in medaglia. Perché anche se un ragazzo non è che ha detto che venga una medaglia, però se poi è gratificato anche dalla vittoria, vuol dire che il lavoro che tu hai fatto in balestra è un buon lavoro. Il futuro, se lui continua su questi passi, potrà essere solo florido per lui. Perché Giovanni, io penso che sia uno dei miei piccoli grandi campioni. Noi considerate che l'ultimo europeo che abbiamo fatto in Francia, ad Andibes, abbiamo avuto un bottino di 15 medaglie, 6 ori, 6 argenti e 3 bronzi. A chi dedichi questa vittoria? La dedico ai miei genitori e al maestro che ci mette tanto impegno ogni giorno. E' seconda vittoria consecutiva per la Melfast Gela Basket in casa dell'Imbicta di Caltanissette col punteggio di 91-81. Gara giocata in maniera ineccepibile da parte dei Biancazzurri, bravi a chiudere i conti già nel primo tempo, siglando 54 punti in 20 minuti a gestire bene il risultato nel secondo, senza mai perdere il controllo della gara. Vittoria di fondamentale importanza per la Melfast Gela Basket, trionfante sul parquet del Palacanizzaro di Caltanissette nel derby contro l'Imbicta. Il risultato finale è di 91-81 in favore dei Biancazzurri. Inizia decisamente meglio la squadra di coach Totò Bernardo, con ottime percentuali a tiro e ben 24 punti segnati, contro i 10 dei nisseni. Nel secondo quarto i locali non sembrano soddisfatti e riescono a fare anche meglio, arrivando a siglare la bellezza di 30 punti e chiudendo il primo tempo sul punteggio di 54-29. Ad uscire meglio dagli spogliatoi è la squadra di casa, che nel terzo quarto cerca di ridurre il gap ma recupera appena 6 punti. Risultato a fine terzo quarto di 76-57. Nell'ultima frazione di gara continua a tentare il tutto per tutto l'Imbicta, ma niente da fare, la Melfast è in stato di grazia e batterle è tutt'altro che semplice, soprattutto dopo i 54 punti siglati nel solo primo tempo. Punteggio finale di 91-81 in favore di una stra-repanta Melfast Gela Basket, trascinata da Salvolong e Luigi Dispinzeri, autore di 18 punti a testa. Si tratta della seconda vittoria consecutiva e soprattutto dell'undicesimo successo nelle ultime 12 gare di regular season. La squadra di coach Bernardo consolida con questi due punti il quarto posto e si porta a più 4 da Invicta e DR, in attesa della sfida di quest'ultima contro la Cus Palermo che si giocherà mercoledì prossimo. Adesso i gelesi affronteranno domenica 7 aprile al Palervatino il Comiso, terza forza del campionato e il Gravina nella giornata successiva. Dopodiché arriveranno i play-off. Se i biancazzurri dovessero concludere la regular season al quarto posto, affronteranno la quinta classificata, una 3DR Invicta, e si giocherà al meglio delle tre gare. E' tutto, il nostro telegiornale termina qui. Per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Adesso vi lascio alle previsioni medio. Grazie per averci seguito. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.